Slater King, andiamo alla domanda per la quale tutti attendono con ansia la risposta. Dove è stato? Ho capito che avevo bisogno di sparire per un po'. E così, diciamo che ho acquistato un'isola. Un'isola? È un bel posto dove portare gli amici. Piacere di conoscerti, Frida. Andremo sulla mia isola per qualche giorno. Volete venire? Siamo arrivati in jet sull'isola con un mucchio di sconosciuti. Lui non è uno sconosciuto. È Slater King. Non so dirle quanto mi abbia fatto bene staccare da tutto. Telefoni, prego. Sul serio? Senza telefoni è meglio. Spero che ti vada bene. Questa è la mia preferita. Credo che sopravvivrò. Coltiviamo il nostro cibo. Indosso sempre le stesse cose. Non credi che sia strano che ci siano dei vestiti per noi? Credo sia una cosa da ricchi. Non è proprio quello che mi aspettavo. Che vuoi dire? I leggendari parti di Slater King. Battigli occhi due volte se rischio. Che giorno è? Non lo so. Quando andremo via? Quando vuoi. Tutto ok? Ehi, il tuo occhio. Lo percepisci? C'è qualcosa che non va in questo posto. Ho della terra sotto le unghie e non so come ci sia finito. Ti stai divertendo? Stiamo dimenticando un sacco di cose. Succede qualcosa di strano qui. Ci stanno portando a dimenticare. Dov'è Jess? Chi è Jess? La mia amica. Te la ricordi? Sì. Ma io non me la ricordo. No. Che c'è lì? Io cerco i telefoni, occhi aperti. Oh mio Dio. Che cosa dobbiamo farne di te? Sta per succedere qualcosa di orribile. È un posto davvero speciale.